Buongiorno, sono Angela Malfitano, vi leggo con tutto il cuore la poesia di Caterina Angelachi Rook, una poetessa greca scomparsa proprio di recente a gennaio di quest'anno. È un dialogo immaginario tra la poetessa e il tempo, io e il tempo. Tempo. Ma perché provi tanta paura? Io sono il tempo, non sono la morte. Io. Non è proprio paura, vorrei che lo fosse. È qualcosa di molto più complesso, di aggressivo direi. Il tempo. E perché dovresti provare aggressività nei miei confronti? Non sono forse io quello che fa avverare i tuoi sogni? Le promesse che fai a te stessa di farcela entro i miei rigorosi limiti? Le difficoltà, certo, sono infinite, ma non dimenticare che senza di me non ci sarebbe vita. Tu non saresti viva. E io non so se non ci sarebbe vita senza di te. Però mi chiedo come siano stati creati tutti i miti sull'eternità e sulla immortalità. Di sicuro so una cosa, che se tu non esistessi, io non avrei questa perpetua, a tratti dolorosa, sensazione di essere viva. E il tempo? Ma la vita non sono soltanto io. Ci sono il respiro, il cuore, l'amore, la nascita e molto altro ancora. Io? Sì, certo. Ma tutto il resto è come se funzionasse automaticamente. Tu, invece, tu sei una realtà che non smetto mai di percepire, con la mente e con i sensi. Sento come ti allunghi sulla mia carne, che non smette mai di contare un minuto, un'ora, un giorno. E allora mi domando in continuazione, quanto tempo durerò? Quanto tempo mi rimane? E il tempo? Tempo rimasto per cosa? Poiché tu sei la parte attiva, tu ne sei responsabile. Sei in tempo oppure no? E io? Tempo tu? Tu metti insieme gli opposti. Sei un'idea astratta insieme a una realtà concreta. Sei l'elemento necessario perché possiamo realizzare i sogni della nostra vita. E allo stesso tempo sei portatore di disastri e morte. Ma poiché tu sei la mia quotidianità, sento che posso affrontarti perché tu sei la mia realtà. E il tempo? Come puoi tu affrontarmi? Nessuno mi ha mai visto? Sono solo gli esseri umani che hanno deciso di contarmi. Io? Sì, ma da questo contare dipende il successo o il fallimento delle loro vite. Morto all'età di 84 anni, quelli che restano, i suoi parenti, esaminano la sua storia. Se abbia usato il suo tempo con lucidità o se abbia perso dei momenti che avrebbero potuto farlo più felice. E quando il defunto è giovane, chi gli sopravvive compiange non solo la perdita di quella particolare persona, ma anche la perdita del rinnovamento futuro di un essere umano. Tempo. Sì, ma a dispetto di questa valutazione storica, io resto incontrollabile. Non annuncio mai il mio arrivo né la mia partenza. Io. Ma noi non abbiamo bisogno di annunci. Sappiamo tutti che il tuo arrivo è la nostra nascita e la tua partenza è la nostra morte. Ma lascia che ti chieda, ora che ti ho di fronte a me, almeno così mi sembra. Quali sono i limiti del mio tempo? Quanto il tempo che mi resta? E il tempo? Non lo so. E io? Com'è possibile? Se non lo sai tu, chi lo sa? E il tempo? Se chiedi a un fiume che scorre il nome del mare in cui vai a finire, saprà come risponderti? No. Non lo sobra.